Oh no! L'aspirapolvera sta venendo verso di noi! Eccolo! Che potenza! Guardate! L'aria si muove! È sempre più vicina! Attenzione! Ciao ragazzi! Bentornati! Siete pronti per una nuova avventura? E allora via! Dai, andiamo avanti ad esplorare! Ma un attimo, aspetta! Lo sentite anche voi? Eh sì, è un rumore continuo! È una sorta di motore! E si avvicina! Non perdiamo tempo! Andiamo a riparo! Sembrerebbe una sorta di... Aspirapolvere! Oh no! Scappiamo! Aiuto mamma! Forza! Veloci! Bene, ci siamo! Oh no! L'aspirapolvere sta venendo verso di noi! Aiuto! Eccolo! Che potenza! Guardate! L'aria si muove! Oh no! Aiuto! È sempre più vicina! Attenzione! Oh no! Non è già venuta! Che popolo! Aiuto ragazzi! Staranno bene? Vediamo! Aiuto! Mi ha rifatto la piega! Io sicuramente non ho più il cerume nelle orecchie! Oh! Che cosa? Che schifo! Come ti è venuta questa? Comunque siamo salvi! Ed è via libera! Wow! Che bella scatola! Oh già! E Amazon! Pazzesco! Ma dai! Anche loro! Beh! Almeno abbiamo capito che sono come noi! In tutto e per tutto! Sono più grandi di noi! Oh! Come mi piace le cerere pacche di Amazon! 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 Chissà cosa c'era dentro! Vediamo se si legge da qualche parte! Forse! Su quella striscia! Vediamo! Sì! Prova a girarla! Oh no! È male! Mi si è appiccicata! Oh no! Sì! No! Così fate peggio! Vi aiuto io! Aspettate! Oh! Oh no! Oh! Anch'io! Aiuto! Mi sono incollato! Oh no! Bel pasticcio adesso! Oh no! Arriva qualcuno! E adesso? Vediamo che non ci vedano! Oh no! Ragazzi! Non ci posso credere! Ma oggi questi piccolini non hanno pace! Vediamo un po' adesso se si accorgeranno di loro! Ok! Dopo la schiaccio! Incredibile! Non ci ho visti! Oh! Meno male! Ci è mancato davvero poco! Ma adesso? Dobbiamo adondularci! Magari riusciamo a staccarci! Bravo Nick! Buona idea! Al mio tre tutti insieme! Uno, due, vai! Oh! Izza! Oh! Izza! Oh! Oh! Altro che montagne russe! Ah! Ah! Oh! Oh! Evviva! Ci siamo riusciti! Forza! Allontaniamoci di qua prima che arrivino di nuovo! Oh! Dove ci troviamo? Fuori di casa! Sì! Ma è molto più pericoloso che stare in casa! Potremmo diventare delle prede ad esempio per uccelli! O per gatti! O per topi! Senza parlare delle nutrie! Oh no! I topi giganti! Aiuto! Ok! Nascondiamoci quando possiamo ritornare dentro casa! Oh! Guardate! Una mega lumaca! Wow! Che grande! Ok! Buongiorno a lei, madame! Potrei mangiarci un mese! Cosa? Jack! Ti piacciono le lumache? Mi è passata la fame! Invece dovremmo trovare qualcosa da mettere sotto i denti! Gambe in spalla via! Eh già! Gambe in spalla, amici! Camminate! Per oggi l'avventura finisce qui! Seguiteci per i prossimi episodi! Intanto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like! Ciao ciao!